Salve a tutti ragazzi eccoci oggi con un nuovo video Ragazzi ve lo dico a priori non dovevo caricare nessun video per il semplice fatto che non avevo tempo Tra il lavoro e comunque il fatto che c'è la Pasqua insomma è tutto un po' un casino Però mentre aprivo il gioco così è uscita una cosa molto divertente, molto particolare Ho detto quindi posso fare un video di 10 minuti perché? Perché ne approfitto per fare gli auguri ai miei iscritti In più non ho avuto il tempo materiale di preparare le decklist per fare i video seri E quindi perché no facciamo questo video quindi iniziamo ovviamente dicendo tanti tanti auguri di buona Pasqua a tutti quanti A tutti voi che mi seguite e quindi mi auguro che possiate trascorrere una felice Pasqua Ma tralasciando queste cose andiamo a vedere qual è la particolarità nel gioco Come potete ben vedere qui abbiamo Tristan Chi è Tristan? È un personaggio di Yu-Gi-Oh! canonico In che senso? Canonico a livelli stratosferici essendo uno dei personaggi principali della prima serie Della prima stagione di Yu-Gi-Oh! Quindi personaggio fondamentale, personaggio sempre azzeccato a Joy e a Yu-Gi Insomma personaggio molto molto bello che effettivamente non c'era mai e dico mai stato proposto nel gioco Come personaggio giocabile eccetera eccetera Quindi averlo adesso qui già è una cosa molto particolare Ma qual è la cosa ancora più particolare? Che è un vero e proprio troll Cioè non so sarà tipo un pesce d'aprile perché Allora come potete ben vedere attacco dei Tristan Allora dice dal 31 al 2 del mese prossimo E cosa ci dice? Ci dice che a causa di un terribile errore In Duel World stanno comparendo alter ego di Tristan Taylor A perdita d'occhio Quindi diciamo un po' è questo errore del sistema Errore del gioco che ci sta facendo comparire questi personaggi Poi dice per saperne di più deve un'occhiata alla pagina dell'evento Ovviamente Noi alla pagina dell'evento neanche ci andiamo Però qui cosa abbiamo? Abbiamo anche uno Structure Deck Dei draghi perché c'è la nuova abilità di Chaz con i draghi Che c'entra qualcosa con i draghi Che al momento ancora non mi sono informato come si deve Ma insomma lo vedremo in futuro Quando comprerò il box e quando otterrò comunque la skill In più raga vi avevo rimasto Vi avevo lasciati con la promessa di farvi sapere Jesse cosa faceva cosa non faceva Comunque si Jesse ci da Drago Arcobaleno Quando lo sblocchiamo io ho sbloccato Jesse E ho quindi anche il Drago Arcobaleno Infatti andiamo in GX ve lo faccio vedere Da quando doveva essere un video corto Lo so sta diventando un video lunghissimo Però raga quando inizio e c'ho qualcosa da dire Insomma sapete che mi fa molto molto piacere stare con voi Eccolo qui Jesse già a livello 6 Anche perché io lo adoro questo personaggio Già ve l'ho detto per me è fantastico E la cosa molto positiva è che ci da Aumentando di livello i Pegaso Zaffiro E ce ne da la bellezza di due Pegaso Zaffiro Più tante altre carte molto molto utili Per il Bestia Cristallo Quindi lo porterò senza ombra di dubbio A livello massimo in pochissimo tempo E poi ci sta comunque da dire che la terza copia del Pegaso Ci viene data semplicemente con i punti dell'evento Senza considerare che la possiamo ottenere Farmando Jesse normalmente Non vi ho portato la decklist farming Per il semplice fatto che Non ho avuto il tempo Ma che al 100% sarà utilizzabile Quella lì che già trovate sul canale Ma comunque ve la riporterò Dopo Pasqua Perché raga non so se riuscirò Tra domani e dopodomani Pasqua Pasquetta A portare qualche video Ne dubito Però se riesco stasera anche in tarda serata Cercherò di fare qualcosina E vi dovevo far sapere Cosa succedeva Quando compariva Zane Arrivato ai 100.000 punti Niente raga Compare Zane Che è identico allo Zane Uscito tanto tempo fa Dove lo farmavamo Per ottenere Le carte Basate sui cyber draghi E Quindi niente Non ci sta niente di particolare Hanno semplicemente voluto Rintrodurre anche Zane Forse per chi Non lo aveva farmato Al suo tempo In cosa consiste comunque L'errore Di questo nuovo personaggio Semplicemente Che vedete Ogni volta che scorriamo una pagina Ne troviamo A bizzeffe E ci sono due missioni Per avere Il tappetino E la foderina Di questo Personaggio La cosa bella È che io pensavo Di doverlo Affrontare Non so qui perché Mi ha cambiato il personaggio In automatico Vabbè teniamo Arcana adesso Comunque Cliccando sul personaggio Io pensavo di Provare a fare un duello Di Vedere se si ottenevano Delle nuove carte Invece no raga Cliccandolo Mi è uscito Ancora una volta Un errore E Praticamente Non me lo faceva Neanche affrontare Vediamo un po' qui Se succede qualcosa di diverso No raga Anche qui vedete Praticamente Un errore E non ce lo fa Affrontare Quindi in automatico Lui perde il duello Suppongo Non so Non so dirvi E Quindi ciao Tristan GG Se ne va E poi ci sta anche da notare Vabbè che ci danno Delle piccole ricompense Quindi Ad esempio 100 di oro Quindi sarebbe un po' come I punti esclamativi Dai per farci intendere Però a posto di punti esclamativi Abbiamo Tristan E io non so quindi Se questo Tristan Comparirà a posto dei punti esclamativi In Duel World Nei prossimi giorni I punti esclamativi Vedete io ancora ce li ho Però potrebbe anche darsi Che appunto A posto dei punti esclamativi Metteranno Tristan Questa è una mia ipotesi Ovviamente E Dovremmo cliccare Praticamente 5 Tristan In questo modo Per ottenere Tutti i premi E quindi lo volevo fare Insieme a voi Così Prendiamo Foderine e tappetini E Andiamo avanti Poi non so se avete notato Cosa molto molto carina Tutto il Duel World È stato praticamente Fatto a immagine e somiglianza Di Tristan Infatti vi faccio vedere subito Ad esempio Qui abbiamo le bandierine Sui lampioncini Abbiamo la sua immagine Qui vedete Nei quadri Abbiamo Da quest'altra parte La statua di Tristan Tristan dove sta L'accademia del duello Insomma Hanno praticamente Modificato un po' Col tutto Basandosi su Tristan Devo essere onesto Raga È una cosa Che mi ha fatto Molto molto piacere È una cosa Molto divertente Perché non me l'aspettavo Completamente Una cosa del genere Mi fa piacere Per il personaggio Che è un Gran bel personaggio E mi fa piacere Anche per questa Insomma Innovazione Questa Cosa Che si sono inventati Che si sono Pensati Di far uscire un errore Di farne uscire tantissimi Infatti Ho già convinto Devo farmare Tutti questi Tristan Invece vado a vedere Dobbiamo semplicemente Fare così E praticamente Non dobbiamo fare nulla E quindi Niente Divertente Io sono rimasto colpito Fatemi sapere voi Se siete rimasti colpiti Non so che cosa è successo Avrò fatto la missione Ecco Perché uno L'avevo già affrontato Da solo Giustamente E quindi abbiamo Il tappetino Di Tristan Cioè Le foderine Di Tristan E il tappetino Di Tristan Che andremo a mettere Immediatamente E che vi farò Anche vedere Un'altra Novità Del gioco Infatti Quando andate Nell'edit Nell'edit Del deck E andate Sul Accessori Nuova applicazione Che è stata Introdotta Possiamo fare Cambio accessori E andare Direttamente A cambiare Le foderine E i tappetini Quindi Cosa Molto E dico Molto Comoda Molto bella Hanno fatto bene Cambia per tutti i deck Ovviamente Cambia per tutti i deck Altra cosa Molto buona Perché ci fa Praticamente Capire Che in questo modo Possiamo anche Personalizzare Singolarmente I deck Quindi Questo deck Ad esempio Lo mettevo Con delle foderine Un altro deck Con altre foderine Quindi molto Molto bello Molto intelligente Come cosa Anche perché ad esempio Deck Drago bianco Occhi blu Metto foderine E cose Del drago Mentre Che ne so Deck Occhi rossi Metto cose Di occhi rossi Insomma Molto molto Bene Molto Mi fa molto piacere Il gioco si sta Evolvendo E sta facendo Tante piccole cose Che però sono Molto molto Utili a mio avviso Eccovi qui Anche il drago Arcobaleno In tutto Il suo splendore Carta bellissima Carta Formidabile Speravo veramente Con tutto il cuore Di poterla Ottenere In qualche modo E effettivamente Il gioco ci ha contentato Ci ha dato anche Questa carta Ok Ne sono rimasti Altri Penso che serviranno Solo per ottenere Ulteriori piccole Ricompense Come monete Eccetera Eccetera Comunque Per qualsiasi altra Novità Vi farò sapere Vi farò qualche video Spero quindi Che questo video Vi sia piaciuto Spero che anche Questa Innovazione Così come è piaciuta A me Sia piaciuta Anche a voi Se così fosse Mi raccomando Iscrivetevi Commentate Condividete questo video Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Noi ci vediamo Con il prossimo Bella raga Ciao